Sul circuito toscano del Mugello è andato in scena il quinto round del campionato italiano velocità. Il team MR Racing di cui Rossini TV Media Partner si è dovuto presentare a questo appuntamento con un solo pilota, Matteo Morri, in quanto Giampaolo Di Vittori si è infortunato ad una spalla durante una sessione privata d'allenamento proprio pochi giorni prima delle gare in programma. Fin dal giovedì dati raccolti nei turni di libere e le sensazioni di Morri, che ricordiamolo rientrava dopo un infortunio subito in gara 2 a Misano di fine luglio, erano buone per il proseguo del weekend di gara. Durante le qualifiche del venerdì il tempo sul giro fatto realizzare da Morri, pur essendo di pochi decimi superiore a quello dei migliori della categoria, lo ha posizionato in dodicesima casella sulla griglia di partenza. Il sabato mattina, a causa della pioggia incessante con raffiche di vento molto forte, ha portato gli organizzatori del campionato ad annullare i turni di prove previsti. Si è dunque partiti nella gara di pomeriggio col sole ma con l'asfalto ancora magnato senza aver potuto provare il setting delle moto per quel tipo di condizione. Una scivolata poco dopo la partenza di un pilota che stava viaggiando in seconda posizione ha creato difficoltà a chi stava sopraggiungendo in quanto la moto e il pilota sono rimasti in mezzo alla pista. Frangente in cui Morri ha dovuto rallentare molto per evitare il peggio e ha perso posizioni ma, come affermato dallo stesso Matteo a fine gara, sapeva di poter far bene e ha iniziato una bellissima rimonta che lo ha portato a risalire a suon di sorpassi e giri veloci dalla quindicesima posizione del primo giro a un importante sesto posto finale. Fortunatamente il sole ha regalato la sua presenza per tutta la giornata di domenica dove si è ripetuto in parte il copione della gara di sabato per il bravo pilota di Gradara. Una partenza non ottimale non lo ha aiutato nella fase iniziale della gara ma dopo pochi giri i suoi tempi erano del tutto in linea con quelli dei migliori. La rimonta lo ha portato così a tagliare il traguardo in nona posizione centrando l'obiettivo di due risultati in top 10 tra il sabato e la domenica. Soddisfazione per pilota e team che vede aumentare il proprio potenziale in vista dell'ultimo appuntamento di campionato a Imola previsto per sabato 8 e domenica 9 ottobre.